Il 22 giugno siete invitati al setto anno di Let's Rock'n'Roll MS Away con uno spettacolare show di macchine classiche a Schamburg Fairgrounds. Per informazioni 416-992-2993 o visitate il sito letsrocknrollmsaway.com Il 29 giugno i Calabresi nel mondo presentano un grande spettacolo all'aperto gratuito presso il Maple Community Center. Per informazioni 416-418-5006 Il 30 giugno pellegrinaggio a Midland, Santa Messa alle ore 11, ad orazione e processione. Per informazioni 416-741-1463 Il 30 giugno la Contraternita del Santissimo Rosario di San Nicola da Cris di Toronto invita tutti al 25esimo anniversario presso la cappella del Santissimo Crucifisso di Guadagio. Per informazioni 905-602-6141 Il 30 giugno Kits2Kits Runaway of Hope presenta un fashion show in supporto del Million Dollars Smile Charity. Per informazioni visitate il sito milliondollarsmiles.ca Il 7 luglio l'Associazione Maria Santissima delle Grazie invita i devoti al picnic annuale Santa Messa alle ore 10.30 e ricorda i festeggiamenti a Santa Domenica alle ore 15. Pullman disponibili per informazioni 416-244-0321 Il 7 luglio per l'Eclinaggio in italiano Teopoli Per informazioni 416-243-7319 oppure visitate teopoli.com Da 25 al 27 luglio per l'Eclinaggio Sant'Anna a Quebec City Organizzato dalla Chiesa di San Bernardo Per informazioni 416-244-0321 Ed è tutto anche per questa serata passata in compagnia di Orapi Vi ricordo che domani sera alle 19.30 potrete seguire il meglio della settimana di Orapi E' davvero tutto un saluto caloroso da parte di tutto lo staff E ora di un buon proseguimento di sera Allora in Italia mi piacerebbe collaborare con... Con Ermal Mi piacerebbe cantare un bravo con Ermal E all'estero invece con Paolo Venturi I personaggi in ora indossano l'abbigliamento di Cino Spascia E' situato al 27 di Broite Grove a Woodbridge E' verba